Nel film Totò Peppino e la malafemmina, Totò e Peppino De Filippo a Milano in Piazza Duomo dialogano con il vigile milanese in una lingua immaginaria e irresistibile. Il principe della risata Totò ha portato il suo umorismo anche a Milano, come racconta il documentario Umanamente Totò, poi il comico, per il quale il regista Francesco Larosa recentemente ha vinto il premio De Curtis e il titolo istituzionale della presidenza del Consiglio dei Ministri.